Il gruppo Wagner rivendica la cattura totale della città di Bakhmut, Kiev smentisce e afferma che le truppe ucraine combattono ancora. Zelensky al G7 per incassare nuovi sostegni alla causa ucraina, qui per avvicinarci alla pace, incontri con Meloni, Sunak e Biden. Non c'è pace per la Romagna, l'allerta meteo prolungata anche per domenica 21 maggio, la premier Meloni anticipa il ritorno dal G7 in corso in Giappone. In Grecia tutto pronto per le elezioni parlamentari, urne aperte alle 7 del mattino, ora locale di domenica. Per la prima volta voterà anche chi ha 17 anni. Il capo della compagnia di soldati mercenari del gruppo Wagner, Yevgeni Prigozhin, ha dichiarato di aver completato la cattura della città di Bakhmut, in cui si combatte la battaglia più logorante dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. La presa della città ha richiesto 224 giorni, ha fermato Prigozhin, annunciando che la città verrà consegnata all'esercito russo il 25 maggio, quando le milizie mercenarie potranno finalmente ritirarsi. Solo pochi giorni fa Prigozhin criticava il comando militare russo per aver fatto arretrare le sue truppe nella città, concedendo all'avversario ucraino una posizione di vantaggio. Immediata la smentita del portavoce delle truppe ucraine dell'Est, secondo cui i soldati di Kiev continuano a combattere. Una serie di strette di mano per rilanciare la causa ucraina. Passata da Roma, Berlino, Parigi e Londra, l'offensiva diplomatica di Zelensky prosegue al G7 di Hiroshima. In calendario, dopo gli incontri con Giorgia Meloni e con il premier britannico Rishi Sunak, soprattutto il faccia a faccia di peso con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Più recente frutto del consolidarsi dei rapporti con Washington, il Via Libera usa le forniture di F-16 reclamati da Kiev. Immediato l'Alto l'ha affidato da Mosca al suo ministero degli esteri. Colossali rischi per l'Occidente se l'accordo andrà in porto. Compatto il fronte che le sette potenze più industrializzate del pianeta hanno però intanto opposto ai toni di Mosca dal Giappone. Massima la fermezza con cui condannano la brutale guerra della Russia emersa dal comunicato finale che la bulla come minaccia per il mondo intero in grave violazione del diritto internazionale. La breve tregua di qualche ora di giovedì 18 maggio è già un ricordo. La pioggia in Romagna è tornata a colpire aree già in pericolo negli scorsi giorni. Nella provincia di Ravenna sono state evacuate più di 27.000 persone e un elicottero è caduto nel comune di Lugo, ora sommerso dall'acqua. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare soltanto a partire da lunedì 22 maggio. L'allerta rossa sul bolognese e sulla Romagna è stata estesa anche per il domenica 21 maggio a causa delle deboli piogge previste sull'Appennino regionale nelle ore centrali della giornata. A far paura il rischio frane se ne sono registrate oltre 300. La premier Giorgia Meloni lascerà in anticipo il vertice del G7 in corso in Giappone, dove ha ottenuto la solidarietà degli altri leader. Martedì il Consiglio dei Ministri che varerà la costruzione di un fondo specifico destinato a ripristinare l'agibilità nelle scuole. Le aule di scuola in Grecia si trasformano in sezioni elettorali. Dalle 7 del mattino di domenica 10 milioni di elettori saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento Ellenico di 300 deputati. Per la prima volta voteranno anche i minorenni che hanno compiuto 17 anni. L'obbligo di voto, da cui sono esenti gli over 70 e i cittadini che si trovano a più di 200 chilometri dalla sezione elettorale, prevede una pena di un anno e un mese di reclusione per chi non si reca alle urne senza un ragionevole motivo. Una sanzione mai applicata finora dallo Stato. Il primo ministro uscente Kiriakos Mitsotakis è a caccia di un secondo mandato, ma i sondaggi lo allontanano dalla maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. Il sistema elettorale in Grecia prevede un secondo turno che permetterebbe al partito con più voti di ottenere un premio di ulteriori 50 seggi al massimo. Ed è alla seconda tornata del 2 luglio che i principali partiti guardano.